Un corso di campane tibetane a Padova il 9 e 10 di aprile. Città fantastica, città magica e tutto questo in una location da sogno, una chiesa antichissima sconsacrata. Sarò in questo luogo per farti conoscere questo strumento che è la campana tibetana e per portarti in questo meraviglioso mondo. Entra nel link, leggi il programma, lì troverai tutte le risposte che vai cercando. Io ti aspetto, io vi aspetto. Non vedo l'ora di conoscervi e di portarvi in questo meraviglioso mondo. Namaste Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!